Insieme cambieremo il mondo. Mi mancherai da morire. Anche tu mi mancherai tanto. Ma perché ci hanno rapiti? Forse pensano che siamo americani. Non sa dove si trova. Che state facendo? Che volete? E deve affrontare una partita. Dimmi per chi lavori. Lavoro in banca. Stai mentendo? Non sto mentendo. Dici solo chi sono i tuoi amici. Siete con il movimento. Movimento è con noi. Che ti servono questi soldi? Io sono qui per aiutare il tuo popolo. Ogni muslim è un terrorista? No, tu lo sei. Ti ho portato un regalo. Non posso dirti niente se non so che accidenti vuoi sapere da me. Io voglio conoscere qualunque cosa. Ogni mossa. Perché dovrei simpatizzare per l'America? Hai preso un milione di dollari. Può decidere il suo destino. Gli ho rubati quei soldi! No! È quello di una nazione. Ti ha reclutato lei? Cia a Dia non c'entra niente in questa storia. Si devi convincere. Per chi la vuole. Per il popolo. Che faresti? Scriverai nomi delle persone che ti hanno dato soldi per restare vivo. Lawrence Fishburne. Ryan Phillippe. Cole Mini. Dammi la mano. No! Five Fingers.